Un capodanno amaro, quello di 30 lavoratori interinali del call center dell'azienda Customer2Care, rimasti senza lavoro da un giorno all'altro il 31 dicembre scorso. L'azienda, costituita all'Aquila nel 2016 per rilevare 250 lavoratori del call center ex Globnet, ha interrotto infatti il rapporto di lavoro interinale dopo quasi due anni di attività. A denunciarlo è Venanzio Cretarola, coordinatore nazionale del settore call center del sindacato CISAL Comunicazione, che chiede l'immediato reimpiego dei lavoratori. In caso contrario sarebbero lesi i loro diritti di continuazione occupazionale con il nuovo gestore, perdendo il requisito dei sei mesi continuativi di attività nella medesima commessa di lavoro. Con l'interruzione del rapporto di lavoro non verrebbe rispettata, dice Cretarola, la legge sulla clausola sociale, che in caso di cambio di gestore del servizio e con la permanenza dei volumi di attività, garantisce la continuità occupazionale. Per il sindacalista, infatti, Customer2Care avrebbe ceduto la proprietà maggioritaria a un'azienda di battipaglia a cui la committente Wind3 ha girato la commessa di lavoro. In questo caso ci risulta che è avvenuto un cambio di gestione di commessa, e cioè la società attuale Customer2 ha ceduto la maggioranza delle quote a un'altra società che a sua volta ha preso l'appalto dalla Wind3, che è il committente da due anni qui all'Aquila, e ha girato in subappalto a Customer2, quindi di fatto non è cambiato niente, ma formalmente c'è stato un cambio di appalto. In questi casi la legge sulla clausola sociale prevede una procedura rigida di consultazione 60 giorni prima e 30 giorni prima con i sindacati per spiegare le cose e contrattare anche le modalità di passaggio dei lavoratori. Ripeto, di tutti i lavoratori. Noi abbiamo già avviato una serie di richieste di diffide sia alle aziende interessate, compresa il committente, perché ne risponde, cioè la Wind3, a Regione e Comune per le loro rispettive competenze in materia di lavoro, al Ministero del Lavoro. Sulla avvertenza del call center dell'Aquila sono intervenuti questa mattina anche CGL, CIS e UIL. In una nota congiunta spiegano che in Customer2Care la clausola sociale non si può applicare perché non c'è stato nessun cambio di appalto, bensì sono cambiate soltanto le quote di proprietà dell'azienda. Le tre sigle sindacali hanno incontrato l'azienda a cose fatte il 28 dicembre. In quella sede l'azienda ha spiegato che a impedire la proroga dei contratti interinali sarebbe l'attuazione del decreto dignità approvato nei mesi scorsi dal governo.